Mi chiamo Morena Radavelli, lavoro al patronato ACLI da più di dieci anni. Da sempre al patronato mi sono occupata di immigrazione, infatti sono la referente e la responsabile dello sportello. Anche se all'apparenza può sembrare solo burocratica, in realtà mi permette di accogliere i bisogni delle persone straniere che abitano in Italia e quindi di assicurare il loro soggiorno regolare in modo coerente con il loro progetto di immigrazione. Magari sono arrivate chiedendo il primo permesso di soggiorno e mi ritrovo a festeggiare la loro cittadinanza. Quindi è un percorso che faccio con loro davvero tante volte, in tutto e per tutto. Tra le varie cose che faccio allo sportello sono ad esempio le richieste di nulla ossa per i ricongiungimenti familiari e questa è la parte che mi piace maggiormente perché mi sembra di contribuire a unire gli affetti delle persone.